Torna il Brodetto Fest dall'1 al 4 giugno. Approfondisci con i talk show di Roberto Giacobbo, Alex Bellini e Peppe Vessicchio. Degusta con la cucina dei pescatori, il circuito dei ristoranti e i cooking show. Divertiti con Brodetto & Kids e scopri la gara nazionale dei brodetti e delle zuppe di pesce. Info su brodettofest.it